Questo è un regalo personale da parte del governo degli Stati Uniti per ognuno di voi. Arma ordinaria dell'esercito americano. M1, calibro 30. Semi-automatico, alimentato a clipper, raffreddato ad aria. Progettato per portare morte e distruzione al nemico. Sarà la vostra fidanzata, la vostra amante, la vostra concubina. Forse l'unica cosa che amerete nella vostra vita. Scegliete la ragazza! Problemi, fusto di mais? Non ce n'è uno della tua taglia? Forse il colore non è di tuo gusto. No, sergente. Mi era stato detto che non avrei usato armi. Ora fa un passo avanti, temo di aver sentito male. Mi dispiace, sergente. Non tocco le armi. Non ci sta chiamando a la guerra. Come i suoi soldati sulla terra. Risponderemo a la guerra. Risponderemo alla chiamata del Signor. Risponderemo a la guerra. Risponderemo alla chiamata del Signor. Risponderemo a la guerra. Risponderemo a la guerra. Risponderemo alle anime che Dio preparò. Risponderemo a la guerra. Risponderemo a la guerra. Risponderemo a la guerra. Risponderemo a la guerra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A mostrare la grandezza del Signore A conquistare la terra che gli ci donò Grazie a tutti. Grazie a tutti.